musica 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 vedi che Pierpaolo è una persona molto più... musica ah, scusa importante non fanno un riassunto la terza volta ho detto una cosa di tre parole e ho riassunto ma allora, vai per chi riesco musica eh, un po' si stai pensati un voglio salvo poi quando non ti parte sui live musica no, no, si blocca bro chat per i monotype se quel pezzo è bellissimo se lo fa contro la scan non è possibile Fabio, dovresti registrare una take tua ahahah rifacciamo adesso la facciamo bene ciao, sono Ciscio Palermo e ho la hard chat dei monotype musica 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 musica